Benvenuti al quarto appuntamento di Taz, laboratorio dal basso. Taz sta per zona artistica temporanea e con noi oggi c'è Alberto Zanchetta, critico, curatore, già direttore del MAC di Lissone. Siamo molto curiosi di ciò che oggi ci racconterà e quindi vi auguro un buon ascolto. Bene, adesso possiamo iniziare. Allora, l'incontro di oggi verte su alcune domande che avevamo concordato ve le leggo come opera e come si diventa un curatore e o critico d'arte. Rapporti tra artisti, curatori e galleristi. Cosa significa e quali sono i compiti di un direttore di un museo. Come un artista emergente può interfacciarsi con le istituzioni museali e scrivere per una rivista d'arte. Ecco, queste sono le questioni che andremo a approfondire oggi, ma nel pomeriggio. Tengo in sospeso queste cose che sono fondamentali per parlarvi questa mattina di un altro aspetto invece che mi preme molto di più. Dovrò fare uno slalom tra le varie cartelle, quindi dovrete avere un attimo di pazienza. Allora, è appena finita la fiera a Bologna e mi interessava parlarvi anche dell'importanza che ha la comunicazione nel mondo dell'arte. Adesso è più importante riuscire a comunicare l'evento che fare l'evento stesso, perché l'evento, bene o male, sono pochi a vederlo fisicamente. Lo si vede magari attraverso i media, in televisione, attraverso il computer, tutte le riviste, se ne parla, eccetera. Però se non hai un ufficio stampa, dei PR rivalidi, bene o male, puoi fare anche la mostra del secolo, ma poi non lo sa nessuno. Allora, mi interessava anche vedere l'evoluzione, negli ultimi dieci anni, di una fiera, come ha comunicato, è il Miarte che fra un po' inaugurerà. Adesso questa è la comunicazione del 2009, che era bene o male apprezzabile. Io, nel 2009, non c'è nessuna immagine, tutto molto pulito, informazioni standard, insomma, il minimo indispensabile. Che cos'è successo poi nel 2012? È stato dato a Federico Pepe, che è un artista e anche il fondatore della rivista fondamentale, diktator, la comunicazione. Lui ha fatto un progetto d'arte su questa comunicazione, interessantissimo, forse un po' troppo sperimentale, perché molti non l'hanno capito. Adesso qui vedete questa scomposizione quasi futurista del nome Miarte, che alcuni, soprattutto di una certa generazione, non riuscivano a leggere. Sembrerà strano, ma era così. Quindi tu cerchi di comunicare una cosa che poi non arriva. Ed è stato il paradosso di quell'anno. Anche qui, a un certo punto, l'impatto visivo c'è, funziona, perché ti incuriosisce. Però effettivamente, se non fai capire, che qui vediamo 2012. Sappiamo qual è l'anno. Sappiamo quale è fiera internazionale d'arte moderna, ma forse, che sia Milano, piuttosto che Bologna, Torino o Berlino, dove volete, questo forse non è molto chiaro. Poi aveva fatto tutta una ricerca sui loghi, infatti riconoscete la Torre Velasca, ovviamente il calcio legato al Milan. Cioè, tutto questo, anche il ragionamento su colori che erano solo il rosso e il nero. Questa grande installazione è un'opera d'arte, sostanzialmente. A me piace molto anche questa sorta, quello che vedete in alto a sinistra, a vostra sinistra, che sono quasi dei gonfaloni, delle bandiere. Molto elegante, si vede che lui è una formazione di arti visive. Qui c'era anche, questo è il catalogo, all'interno il cd, forse dovrei avere anche delle... Ecco, perfetto. Questa è una tipologia dell'impaginato interno, dove potete vedere, sembra quasi un errore di stampa, no? Il nome della galleria, Raffaella Cortese, viene ripreso in sotto, ma tagliato. Sembra quando vai in stampa, fai le prove di stampa e sbagliano a fare il taglio della carta. O anche il nome della galleria che va sopra, adesso non si vede benissimo, ma ci sono altre informazioni che va a coprire anche il testo che c'è, più chiaro, più scuro. E molti hanno criticato l'operato di Pepe. Era sperimentale, era innovativo, perché la fiera di Milano si stava affossando. Era una fiera che non è mai riuscita a decollare, se non negli ultimi anni. Ed è un paradosso anche questo, perché c'è Torino, artissima, che va sempre bene. La fiera per i giovani, sempre propositiva. Bologna, che è stato un caposaldo, invece ha avuto anch'esso un tracollo. E Miart, invece, sta risalendo la china. Però, com'è partita? Adesso non ho la comunicazione più vecchia di Miart, quella che ho trovato in rete è del 2003, dieci anni fa. È una cosa orrenda. Cioè, questo è il non gusto grafico. Due colori che proprio non si abbinano, non so chi fosse il grafico di allora, però, certo, era la peggiore cosa che si potesse fare. Miart, avete visto, per quasi dieci anni è rimasto identico al font, con la M e la A maiuscola. Qui, già siamo nel 2005, si spurga tutto, inizia a apparire questo rosso che poi diventerà caratteristico della fiera. 2006, qua, ecco, torniamo a non calibrare bene i colori. E qui, questa immagine, ah, ok, sì. Questo è appunto il logo per cui era conosciuta. Poi, adesso, dopo Pepe, si è deciso di tornare alla sobrietà. E questo, adesso non ho gli dati perché mi sono spariti, però credo 2013, spariscono le maiuscole, tutto diventa molto rarefatto e diafano. E improvvisamente iniziano a fare una comunicazione dove per la prima volta appaiono delle immagini, delle immagini molto eleganti di un fotografo che fa still life. Non sono fotografie di opere d'arte come di solito accade in altre fiere. Queste sono immagini che un fotografo ha realizzato ispirandosi all'arte e sono veramente belle. ve ne faccio vedere un po'. Vedete vari richiami, ovviamente il busto, l'idea della pittura ma attraverso i liquidi. Queste microinstallazioni che vanno molto di moda, c'è tra arte povera, concettualismo. E questo era, credo fosse, l'invito alla fiera. L'anno dopo la comunicazione funziona, per cui viene riproposta, le informazioni rimangono sempre periferiche, che anche questa è una cosa un po' inconsueta, il fotografo viene riconfermato ed è molto divertente questa serie perché ha a che fare tutto con degli uccelli, uccelli impagliati che vengono collocati all'interno di questi ambienti che sembrano opere minimaliste. Siamo arrivati ai giorni nostri, fra qualche mese inaugura di nuovo la fiera, è già uscita una serie di comunicazioni dove appaiono degli animali. Io ho trovato questa perché l'avevo cercata prima di dicembre, ma sono già uscite delle pubblicità dove si vedono dei cavalli. Quindi qui abbiamo perso totalmente il riferimento iconografico all'arte. Se non c'è scritto art là e ci rimanesse solo mi per Milano, uno direbbe questa è una bellissima foto, una bellissima opera d'arte, però non comunica. Qui invece vi volevo far vedere la vecchia comunicazione del Miarte del 2009, dove c'è solo lettering, c'è solo un font su fondo colorato, rosso, e la parte sotto invece avete un invito del Museo della Spezia, il Kamek. Questo del Kamek è dell'anno scorso, quindi c'è una differenza di 4 anni rispetto a quello che vedete in alto. Il gusto si è raffinato, anche se non è facilissimo questa parte di lettura di Mixed Media. E anche qui c'è stata un attimo, non dico una polemica, però alcune persone hanno fatto notare che non è semplicissimo per persone di una certa età basarsi su questo blocco di informazioni, perché alla fine, sì, la freccina si vede, ci sono molte informazioni, perché lo spazio museale è su più livelli e ogni livello è un'esposizione diversa, per cui spesso fanno confusione, non capiscono se sono tre date diverse. Nonostante ci sia scritto, sappiamo benissimo che le persone non leggono, buttano l'occhio e sperano di cogliere subito. E quindi è un grosso problema quello di riuscire a comunicare. Adesso questa invece era un'altra tipologia di invito che diventa anche Locandina, sempre del Kamek della Spezia. Qui sembra un totem, tutto molto bello, a me diverte tantissimo. Io ho una formazione, le superiori le ho fatte da grafico pubblicitario, per cui io ci tengo moltissimo alla grafica, all'immagine che tu dai di uno spazio espositivo privato o pubblico. E qui c'è una ricerca, è sempre un artista che ha seguito questa comunicazione, lo si capisce subito a colpo d'occhio. Vedete, c'è una mostra di Mattiaccio, una mostra sulla scultura, che però si fraziona in una sottomostra di Ketty La Rocca in una project room. Poi c'è un'ulteriore mostra, Destini, Storie e Vite, che era dedicata alla fotografia. Per cui tu vedi questa cosa qui, oltre ai tanti loghi, alle partnership che ci sono, eccetera, e rimani affascinato sostanzialmente da ciò che vedi, ma non da ciò che leggi. Vai al museo e poi capisci esattamente che cosa avevi visto, non ti arriva subito. Questa è una variante, come nella prima versione, già più confloressibile. Il problema qual è, secondo me? Perché pur apprezzando questa grafica e stimando anche i colleghi del Kamek, non c'è un equilibrio, a mio avviso, perché vedete, Elisio Mattiaccio è scritto grande, enorme, maestro dell'arte povera, se lo merita, ed è giustissimo così. Ma rispetto all'ultima mostra, Destini, Storie e Vite, che è molto più piccola, allora sembra che le mostre abbiano due pesi diversi. Mattiaccio ha la mostra del secolo e l'altra invece no. In realtà, questo è Destini, Storie e Vite, che era, lo leggete, fotografie della collezione Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, che ha un giacimento, ha un patrimonio di fotografie tra i più importanti in Italia e fa concorrenza anche all'estero. Però qua sembra passare in modo molto più defilato. E quindi, io credo che bisognerebbe stare molto attenti su questi aspetti. Qua già le cose si bilanciano, effettivamente. In realtà, ho riscontrato anche qui, non dico un refuso, però una cosa che non mi torna. Perché Eliseo Mattiaccio è scritto in grande, mentre la mostra di Fabrizio Prevedello in grande è il titolo, ma non il nome dell'artista. Queste cose sono degustibus, come si dice. Qui fa molto il grafico, però il curatore interno e lo stesso direttore del museo, secondo me, dovrebbero dedicarsi alla grafica, a seguire. Poi vi farò anche vedere una serie di cataloghi, perché alla fine, ribadisco, si può fare anche la mostra del secolo, poi nessuno la vede, ciò che rimane è il catalogo. Il catalogo deve essere seguito dall'inizio fino alla fine. Io conosco molti miei colleghi, consegnano il testo e poi, cosa succede? Succede. Non controllano le bozze, non gli interessa se le didascalie sono corrette, se le immagini sono capovolte, potrebbe andare in stampa a qualsiasi cosa. Per quanto mi riguarda, quando fanno il mio nome ai grafici e agli editori, si spaventano. No, no, zanchetta, no, non possiamo reggerlo, perché io faccio continuamente giri di bozze, correzione su correzione, finché non sono pienamente soddisfatto. Poi il refuso scappa sempre, fino a 10 nell'editoria è concesso. Però veramente c'è il terrore quando dicono il mio nome, infatti molta gente non vuole più lavorare con me. Ma perché è giusto, insomma, un catalogo costa, perché costa, se non lo fai in digitale, perché poi i tempi si sono anche abbreviati, fino a 5-6 anni fa per fare un catalogo ci mettevi 3 mesi. Adesso in due settimane sei costretto a farlo. Un tour de force stressante, perché poi devi anche fare la mostra, devi fare la comunicazione, devi gestire i trasporti, gli artisti, e devi fare anche un catalogo. È una follia. Io lo dico sempre ai galleristi, mi chiamano, Alberto, devo inaugurare la mostra in galleria fra un mese e mezzo, mi scrivi il testo. E io, ma come ti scrivo il testo in un mese e mezzo? Ma sì, dai che ce la fai Alberto. E io, certo che ce la posso fare, ma ho anche altre cose da seguire. Ma non si rendono conto, perché ognuno pensa a se stesso, al proprio orticello, no? E quindi, io devo gestire un museo. Sono responsabile del dipartimento in un'accademia dove insegno un laboratorio di arti visive. Per inciso, sono l'unico critico italiano che ha un corso di laboratorio. Di solito il critico a storia dell'arte, fenomenologia, eccetera. Ce l'avevo, finché non ho deciso di subentrare alla direzione del dipartimento e ho preso il corso di laboratorio. Ma perché comunque, dopo aver fatto grafico, io sono stato all'Accademia Bologna, quindi la formazione d'artista ce l'ho. E devo dire che sono molto soddisfatto dei risultati che sto ottenendo con gli studenti, perché ho fatto un giro anche delle altre accademie. e il livello degli studenti a Brescia, alla LABA, formalmente, concettualmente, è già pronto per approdare alle gallerie. Infatti, ho due studenti che gli avevo organizzato a dicembre una mostra in una galleria privata e questa galleria privata li ha portati in fiera a Bologna. E hanno 23 anni. Gli altri accademie, non so, saranno gli artisti che non hanno più voglia di insegnare, forse non sono anche in grado di insegnare gli artisti, perché il mio docente di Bologna era con Certo Pozzati e diceva sempre che si insegna quello che non si sa. Quindi, la domanda è nello studente, quindi cos'è che stiamo facendo esattamente? Vabbè, sto divagando. Torno un attimo alla CAMEC. Qua è un momento dell'inaugurazione dove, appunto, vedete Eliseo Mattiaci. Qui, invece, funziona molto bene perché, essendo su più livelli le mostre, ci sono queste grandi pareti che tu trovi salendo le scale e viene riportato il nome o della mostra o dell'artista. Non si vede molto bene, ma questo è fatto tutto con del materiale che sembra carbone. Quindi hanno incollato questi materiali. Altre volte poteva essere del sughero piuttosto che della terra. E quindi, anzi, qui lo potete vedere benissimo, che ci sono i rimasugli, gli scarti della scritta. E questo è molto efficace. Ti invoglia, ti incuriosisce a vedere la mostra. Passiamo un attimo, invece, alle pubblicità che escono sulle riviste. Io amo molto queste, dove c'è solo il testo, non c'è l'immagine, ma funziona quando il nome dell'artista è di fama internazionale. Qui possiamo tranquillamente non vedere uno dei pesci, delle teste, delle colonne infinite di Brancusi. Sappiamo benissimo chi è. Ci interessa sapere dove e quando. Infatti, New York, no, scusate, 1913-2013, forse era la mostra, gli anni della mostra. E basta, non serve nient'altro, così come... No, scusate, pensavo di avere un'altra immagine e mi sono fregato. Queste a me piacciono molto, ma mi divertono anche quest'altre, che è un po' quello che è successo col Mi Art negli ultimi anni, questa cosa dei guffi, dei cavalli, eccetera. Queste sono le pubblicità che pubblica Bischoff Berger su Art Forum. Lui mette, non è molto equilibrato, però, essendo un gallerista degli anni Ottanta, se lo può permettere, il gusto degli anni Ottanta lo si ritrova qui. Quindi ci sono tutte le informazioni di rito, il nome, dove si trova, eccetera. Poi una serie di nominativi degli artisti, che sono chiamati anche qua solo per cognome. È superfluo dirgli anche il nome. Poi la data e nient'altro. Sono tutte immagini che hanno a che vedere con la Svizzera. Potebbe essere una mucca, queste suore che vanno a raccogliere i fiori. Quindi sono tutte suggestioni dell'ambiente in cui Bischoff Berger è cresciuto. Quindi ti dà un input diverso rispetto a quello che lui vende. E non so, è affascinante. Non so spiegarvi perché mi intrigano queste cose. Forse perché proprio so chi è Sozzas, so chi è Warhol, so chi è Barceló. Tutti gli artisti che lui tratta li do per scontati. Ovvio che se io sono un giovane dell'accademia, piuttosto che un neofita, vedendo una cosa del genere dico questa persona forse ha sbagliato la rivista. Hanno messo una prova di stampa e invece di essere pubblicato su Grazia o altre testate, è uscita su Artforum. Però funziona perché comunque lui ha imposto il proprio nome. Tutti sanno chi è Bischoff Berger. C'è poco da fare. Non per autocelebrarmi, perché è una cosa che io detesto, ma adesso vi faccio vedere due casi di pubblicità che ho realizzato per il Museo di Lissone, di cui sono direttore. Sono pubblicità e impaginazioni molto assettiche, dove c'è poco o nulla. Il dettaglio di un'immagine dell'artista, il nome dell'artista con il titolo, e in alto c'è il logo del museo, ma c'è soltanto scritto Lissone, 21 giugno, 17 luglio 2014. Nient'altro. Non c'è scritto gli orari d'apertura del museo, il numero di telefono, la mail, non c'è neanche scritto il mio nome, a cura di Alberto Zanchetta. Tutte le mostre che transitano al museo sono a mia cura o co-curate da me. Però, su una rivista, ci sono tantissime riviste, molto spesso sono la prima parte dei blocchi di pubblicità che non finiscono mai, poi qualche articolo verso la fine. In questo barasma di pubblicità conta il colpo d'occhio. Se io facevo la solita pubblicità come la fanno tutti gli altri, tutti gli altri musei, funziona, forse sì, però proviamo anche a fare cose diverse. Magari questo è un fallimento completo, magari nessuno ha capito che cos'era, ma va bene lo stesso, proviamo anche a cambiare i giochi. Negli ultimi sette anni siamo in questa crisi che non ne veniamo più fuori, divertiamoci almeno. I soldi non ci sono per fare le mostre, tutti piangono, gli artisti si ammazzano per riuscire a trovare gli spos o per realizzare le proprie opere. Quindi, siamo tutti stressati, perché i tempi sono compressi, eccetera, però divertiamoci. L'altra immagine, no scusate, devo andarla a recuperare da PDF, che è una pubblicità, sempre per il museo, però della mostra di Nicola Samori. Allora, ve lo faccio vedere direttamente con questo programma. Allo stesso modo, vedete, c'è questo fondino grigio neutro, i dati rimangono sempre in alto a destra, l'impostazione poi dell'immagine e del testo differisce. in questo caso mi è stato criticato da una persona, che poi ho scoperto essere un artista, un artista che aveva mandato il proprio portofoglio, io gli avevo detto che sì, era un portofoglio giusto, corretto, faceva delle belle foto, ma foto da fotografo, non da artista, e quindi il museo non poteva fare per lui. Ho associato poi quindi chi era questa persona e si era permesso di mandare una mail al nostro indirizzo criticando il fatto che Cristalli era stato scomposto e che quindi non era leggibile, era una cattiva pubblicità, una cattiva comunicazione. In realtà io l'ho molto apprezzato, perché nel dare fastidio a qualcuno, comunque ha sortito una reazione questa pubblicità. D'accordo anche con l'artista, perché poi queste sono elaborazioni che ho fatto io. Anche il nome, Nicola Samori, che va quasi a scomparire all'interno di questo, non era marmo, adesso non mi ricordo più esattamente come si chiama il materiale. Nicola mi ucciderà di certo. Però ci piaceva, insomma, avere un'immagine, un'icona che fosse riconoscibile, che poi è questo volto di Michelangelo sfigurato, corroso dall'interno. C'è anche poi questa cosa del doppio titolo, Intus, che è latino, e poi Cristalli di crisi. Quindi magari è rischioso questo tipo di comunicazione. Io spero però che venga recepita positivamente, insomma, che non sia la solita pubblicità da museo. A questo punto vi faccio... Scusate, questa prima parte, questa mattina forse può essere un po' noiosa, perché sto parlando di un aspetto che magari non viene considerato, negli operatori del settore non ne parlano, ma vale la pena affrontare. Questo invece, sempre la stessa mostra, è il comunicato stampa del museo. Poi vi farò vedere una serie di... Ah, chiedo scusa. Ecco, perfetto. Una serie di comunicati stampa di altre gallerie e musei. Di solito il comunicato stampa nella prima facciata è sempre tutto scritto, non c'è mai... O se c'è, è piccolissima l'immagine. Ragionando su questo stereotipo dei comunicati stampa ho detto, bene, che cosa posso fare io di diverso per il Museo di Lissone. Metto nella prima facciata un'immagine, un'immagine composta con una griglia, la griglia è quadrata, c'è sempre questa banda sopra colorata, e poi all'interno del riquadro il nome dell'artista e il titolo della mostra. E solo sotto c'è un particolare di un'opera, ma è l'opera per intero, ma un dettaglio. Questa cosa che a me piace molto perché poi li stampiamo a colori e dietro c'è il testo, anzi ve lo faccio vedere come è impaginato dietro su due colonne, e qui trovate i dati specifici della mostra, mentre sul fronte trovate quelli del museo. Qui effettivamente ho creato molta confusione, soprattutto in qualche artista che ho ospitato al museo, mi diceva Alberto, ma non ci sono i riferimenti della mia mostra nel museo? Perché leggeva qui il fronte invece di leggere il retro. Poi, un'altra cosa che mi ha fatto notare l'ufficio stampa, ma già lo sapevo, noi al museo abbiamo la CLP di Milano che è una delle più importanti per quanto riguarda la comunicazione. Luca Melloni mi fa Alberto, questa cosa per i giornalisti è impossibile, non la ricepiscono, perché loro hanno bisogno nella prima facciata, nelle prime righe, sapere dove, cosa, come, quando e perché. Nelle prime cinque righe. Qua non ci sono le righe. Quindi, poi i giornalisti che ricevono queste migliaia di comunicazioni al giorno non hanno il tempo di allora sfogliamo l'impaginazione, vediamo. anche qui, in questo testo che è un corpo unico, molto spesso si dovrebbero evidenziare un grassetto delle parti, quelle dove c'è il nome dell'artista, dichiarare quante opere ci sono esposte, se sono 20, se sono 100, tutte quelle cose tecniche che magari sono superflue per uno spettatore, ma per un giornalista che deve dare dei dati sono fondamentali. Quindi, questa è l'impostazione che ho dato io al museo. Poi, però, vi faccio vedere la versione del nostro ufficio stampa, che è completamente diversa. Eccola qui. Vi faccio le parti sottolineate in giallo e in azzurro le ho fatte io. Però, questo è come si presenta il comunicato steso dalla CLP. rimane l'immagine di apertura che è l'immagine guida, la chiamano. Vedete, c'è scritto Lissone, Museo d'Arte Contemporanea, il titolo, il nome dell'artista, la prima riga dal 10 maggio al 15 giugno 2014. Museo d'Arte Contemporanea di Lissone ospita la mostra di Nicola Samorifoli 1977 dal titolo Intus Cristalli di crisi. queste sono informazioni che tu già hai qua, ce le hai già sopra, ma le devi ripetere. Cioè, tu fai, fornisci un comunicato stampa a scanso di equivoci e a scanso di idioti. Ok? Meglio ripetere le cose che darle per scontato. Poi, è interessante, sono le evidenziazioni che ho fatto, ah, scusate, sì, effettivamente forse non riuscite a leggerla, è troppo piccolo, vabbè. La parte in azzurrino, allora, sulla destra una trentina di opere, bisogna dichiararlo. La cosa che mi fa sorridere è dire dell'artista, artista romagnolo. Io capisco che il giornalista ha bisogno di collocarlo geograficamente oltre che anagraficamente perché in questa parte c'è dichiarato la città e l'anno. Però, al di là di dire fornì, bisogna dire anche Romagna. Ok? Anche qui, no? Non rischiamo, diciamolo e così l'informazione che viene riportata è corretta. Però, per me, un artista è importante dove è nato, dove vive, perché comunque poi ci sono influenze all'interno della sua opera. però è un po' sgraziato di dire artista bolzanino, artista fuggiano, no? Mi suona molto male questa cosa, mi suona provinciale sostanzialmente, mentre l'artista dovrebbe se non altro essere nazionale se non internazionale. Non credo, ah sì, ecco, nella seconda facciata oltre che a dichiarare quante opere ci sono, si arriva addirittura a dire di che misura, no? Soprattutto quella più grande far vedere che il museo ospita una sorta di capolavoro, no? Cioè, un'opera di due metri per tre va vista, poi ci sono altre più piccole e anche qui non è solo l'artista che viene collocato geograficamente ma anche il museo, il museo è Brianzolo. Allora, spero voi non siete mai stati in Brianza perché non è splendida la Brianza. Io sono Veneto di origini, siamo nella campagna, tutti i grandi lavoratori, no? Si alzano la mattina, vanno a lavorare e tornano la sera e dormono. Non c'è molta cultura in Brianza e in Veneto se non ovviamente c'è sempre qualcuno che emerge, qualche persona illuminata, ma sostanzialmente sono quel tipo di utenza interessata ad altri aspetti, ha lo status symbol, devo avere una bella casa, devo avere una bella macchina, eccetera. L'arte è sempre una conseguenza, arriva magari per ultimo quando c'è già la casa, c'è già la macchina, il motoscafo, eccetera, dici beh, ma se mi metto magari un fontana in casa qualcuno lo apprezza e quindi viene di conseguenza. e quindi questa è la versione della CLP. Vediamo se ho qualche altro pdf, no, ok, allora, torniamo un attimo alle mie immagini, stiamo quasi per concludere questa prima parte legata alla comunicazione. Ho trovato questa immagine oh, scusatemi, questa immagine su internet che mi ha fatto molto sorridere. Ufficio stampa low cost, le vocali sono gratis. Vi leggo l'asterisco più in sotto c'è scritto fino a inserimento scorte perché effettivamente in questi ultimi anni di crisi i musei molto spesso non riescono a stipendiare un ufficio stampa. Lo fa, sono gli uffici stampa interni li chiamano, ovvero sia sono uffici stampa quasi inesistenti perché usano la mailing list delle persone che si sono iscritte nel corso degli anni all'interno del museo ma l'ufficio stampa esterno intanto ti prepara la comunicazione sa come veicolarla e soprattutto hai contatti dei giornalisti dei critici dei direttori di testate cosa che i musei molto spesso non hanno e non si rendono conto di non avere perché hanno degli impiegati statali ok magari sono ad esempio la fondazione Maramotti a Reggio Emilia è privata e quindi le dinamiche sono diverse però le istituzioni pubbliche in Italia hanno persone valide o meno valide che hanno imparato il lavoro ma non hanno la passione del lavoro e quindi fanno quello che sanno non quello che presumono si dovrebbe fare a meno che non ci sia un direttore che glielo dice però deve seguirli passo passo allora questa cosa siamo in piena crisi è vero che alla fiera di Bologna ho riscontrato diverse vendite però molto spesso sugli anni 60 quindi un andare a speculare verso il maestro che fra 10 anni costerà l'ira di Dio fino a due anni fa c'erano artisti degli anni 60 che costavano 2000 euro fate conto un'opera di queste dimensioni quest'anno in artefiera un'opera di quel formato lì 10 o 20 mila cos'è successo nell'arco di pochi anni alcune gallerie alcuni critici hanno deciso che quello era il momento per rilanciare l'artista quindi hanno alzato i coefficienti poi ci sono tutti dei giochi che si fanno di mettere in asta di comprarli in asta chi lo mette lo fa comprare dall'amico e quindi c'è un continuo sale e scendi di coefficiente però sto tergiversando si tende a risparmiare e questa pubblicità è significativa si risparmia anche sulle vocali è fantastica allora vi avevo promesso che vi facciamo vedere tutta una serie di comunicati stampa li vediamo molto velocissimamente non è importante sapere chi cosa perché è solo da vedere nell'insieme allora anonimo anonimo anche scialbo se mi permettete già qui le cose cambiano perché già abbiamo il logo del Whitney che emerge spicca anche qui la teat già qui vedete c'è un gusto un'impaginazione che non è a corpo pieno qui leggi benissimo sia la galleria il nome dell'artista poi sai dov'è il testo di spiegazione della mostra ma nell'altra colonna a fianco i dati tecnici che di solito invece magari vengono messi o in alto o in basso e quindi sono nello stesso livello qui viene scorporato tu hai una griglia e subito proprio visivamente sai dove vuoi cogliere le informazioni che ti interessano non sei costretto a leggerle tutte anche qui moma comunque questi ultimi sono i più pregevoli dal punto di vista della comunicazione e poi vi faccio vedere invece un comunicato stampa di una mia carissima amica Norma Mangione che ha la galleria a Torino è un comunicato completamente nuovo diverso vedete anche che qui adesso è nero i due pallini che vedete ma sono forati ovvero sia questo comunicato stampa è pensato tu lo prendi ti compri un faldone e li collezioni è già con i due buchi e quindi tu li agganci è vero che anche qua c'è quasi un blocco unico nell'informazione però comunque ha questi questi tagli queste righe che ti permettono di inserire e differenziare le informazioni però il nome della galleria si legge il nome dell'artista c'è balza subito all'occhio e poi le informazioni tecniche di dove come quando sono sparpagliate in modo equilibrato e poi non c'è questo senso dell'horror vacui perché c'è una banda alla vostra destra completamente bianca il che per l'occhio per l'utente è positivo cioè ti invoglia alla lettura queste cose io le ho imparate proprio perché ho fatto la scuola di grafico pubblicitario mi ricordo scusate se apro questo aneddoto ma c'erano i miei compagni di classe che magari c'era da impaginare un catalogo loro impaginavano tutte le pagine di questo catalogo ok in modo da mettere più informazione possibile io invece impaginavo una pagina sì una pagina no lasciandone una completamente bianca e il professore piaceva tantissimo e gli altri mi dicevano ma no ma tu hai fatto metà del lavoro e hai preso il doppio del voto ma non è quello il criterio meno fai vabbè chiudo qua l'aneddoto forse è il momento di fare pausa non lo so perché mi ha sparito l'orario qua sul monitor posso andare avanti perfetto qui in realtà adesso certo prego una domanda banale i comunicati stampa vengono fatti per venire a giornali giornalisti per via informatica per via cartacea o entrambe entrambe però ormai si usa quasi solo il telematico è sempre una questione siamo in piena crisi anche spedire una lettera la busta il frango bollo direte cosa costa costa poco ma moltiplicatelo per mille se non diecimila perché i contatti di uno feggio stampa sono diecimila quindi i costi li evitano un discorso se tu lo fai all'interno del comune che ti mettono il timbro te lo spediscono eccetera però lì bisogna ammortizzare le spese allora si usa il computer via telematica ma soprattutto si è ripreso a chiamare al telefono si insiste telefonicamente giorno dopo giorno allora funziona così ufficio stampa manda la mail dopo un giorno prende chiedo scusa dottor Donchetta le è arrivata la comunicazione inerente alla mostra che faremo e lì molto spesso io dico credo di sì non sono sicuro perché ricevo anch'io centinaia di mail al giorno può essere che non l'ho aperta va bene gliela ribandiamo ok 24 ore tu ce l'hai e quindi tu dopo la telefonata dici ma so che mi deve arrivare quella comunicazione quindi un po' sei costretto e un po' sei incuriosito ad aprirla bisogna fare un po' come il telemarketing insistere insistere ovviamente a un certo punto bisogna anche sapersi tirare indietro perché se diventi asfissiante poi succede che il giornalista il critico d'arte memorizza il numero di telefono ok quando vede squillare non risponde più è tipico e allora adesso volevo farvi vedere il dove l'ho messo un comunicato stampa di un'altra mostra e poi le immagini di quella mostra lo devo aprire in doc perché pensavo fosse un pdf allora graficamente non sono riuscito a farla io perché è una mostra che ho curato io vediamo se riducendolo ecco no facciamo così non è importante che voi leggiate però vedete questo blocco di testo veramente refrattario e poi la mia propensione a dare fastidio ai galleristi agli addetti ai lavori ai giornalisti perché come fai tu a comunicare è una mostra che si chiama P tra parentesi tonde cos'è P in un articolo come come giustifichi che questo è il titolo della mostra allora lì cosa succede quando è un titolo difficile perché capita che do titoli in latino do titoli che sono nomi di persone io io concepisco sempre come le mostre quando sono delle mostre corali le chiamo io perché odio il termine mostra collettiva collettiva è dove tu non hai un tema metti insieme delle persone un po' raffazzonate e le butti in mostra in realtà la mostra corale ha una scientificità cioè tu monitori cosa sta succedendo decidi di dare un taglio e lo rispetti e e quindi il curatore per me è una sorta di collezionista che non ha soldi e quindi si crea queste collezioni momentanee che durano un paio di mesi le fa per se stessa è come se fosse la sua collezione la fa vedere anche gli altri però poi va di nuovo disperso perché torna agli artisti e quindi posso chiamare le mostre tipo tisius che vuol dire tizio oppure Saul ho tutta una serie di mostre in curriculum che hanno nomi prevalentemente di figure mitologico legate alla Bibbia in questo caso che io ho voluto chiamare questa mostra P perché è una mostra sulla pittura e quindi la pittura con la P maiuscola però attraverso inglobata tra queste parentesi tonde perché sappiamo benissimo che la pittura in Italia è la più martoriata nei tempi di crisi torna improvvisamente fuori perché è quella che si vende più facilmente ma molti miei colleghi come molte gallerie un po' snob quando sono i tempi d'oro vanno sul concettuale sul performativo sulla foto la pittura viene un po' ghettizzata si guarda come oddio cos'è quella cosa lì sul chiodo a parete per l'amor di Dio e questa è la reazione tipica vabbè questo era il motivo per cui avevo dato questo titolo però quando è difficile ti invitano fai un sottotitolo comunicalo un po' meglio e lì arriva il mio cinismo il sottotitolo qual è e ve lo devo far vedere meglio lo leggete parerga e parerpomena della pittura sempre con queste soluzioni grafiche il gallerista era disperato ha detto no Alberto tu sei bravissimo ma con questi titoli non si capisce che mostra è tu non preoccuparti è importante che la mostra sia bella poi c'è il passaparola e vedrai che le cose funzionano e vabbè era tutto anzi vi faccio vedere le immagini così vi fate un'idea posso anche dichiarare da chi l'ho fatta era la mostra a cannetto sull'olio da Giovanni Bonelli al Bonelli Lab uno spazio industriale era una vecchia fabbrica di bambole ed è un capannone bianchissimo pulitissimo con l'idea quasi del watercube che andava di moda qualche annetto fa adesso non è più così ed è uno spazio veramente enorme e a me non interessava fare una mostra un'unica mostra che coinvolgesse tutto lo spazio mi interessava frazionare gli ambienti per creare qui erano credo sette mostre in una ovvero sia ogni ogni sala scorro un attimo ecco vedete c'erano questi pannelli che delimitavano degli ambienti quindi ogni delimitazione era una mostra una specificità sull'argomento della pittura ci saranno state una cinquantina di artisti ad occhio e croce a memoria più che altro vedete allora qui c'è un primo ambiente dedicato alla reiterazione l'idea c'era anche un quadro di Morandi poi c'era un rifacimento di Weiner Vaccari sempre su iconografia di Morandi qua c'è un altro ambiente legato all'iconografia di regime purtroppo non ho moltissime immagini qui con me però c'era una cartolina di propaganda dove degli anni 40 dove si vedeva Hitler è di mia proprietà ed è un Hitler particolare perché in abiti civili che accarezza una bambina è una cartolina spettacolare l'ho trovata in un marcattino l'ho inserita perché comunque qui c'era ritornava in un quadro di Gabriele Arruzzo Hitler poi c'era anche un quadretto in quest'altra parete di un Giuda che si impicca che è un'iconografia che io non ho mai trovato nei musei esistono sono pochissime ce l'ha un collezionista che è anche artista Massimo Pulini ah questo proprio quadrettino credo non si sa esattamente l'autore si presume sia o del 600 o del 700 una tavola un olio su tavola e si vede proprio Giuda che si impica stranissimo come quadro quindi anche qua c'era un gioco di opere storiche insieme a giovanissimi ma anche oggetti oggetti che avevo portato io dei dischi che si sentivano poi c'erano cartoline dei ritagli di giornale mi piaceva mescolare l'esposizione non solo con le opere ma anche con dei diciamo con delle informazioni sostanzialmente tu accrescevi l'informazione anzi le suggestioni oltre che le informazioni legate alle opere che vedevi mi piace fare questo gioco qui in questo caso è importante la figura del curatore perché il curatore dà un'impostazione personale alla mostra è importantissimo seguire gli allestimenti diffidati assolutamente di quegli addetti ai lavori che si chiamano si fanno definire curatori ma gli allestimenti non si vedono mai perché lì veramente emerge la figura se no sono dei normalissimi critici consegnano il testo e poi chi si è visto si è visto però anche lì come avevo detto poc'anzi il critico ha la responsabilità di guardare poi il catalogo il curatore deve fare tutte queste cose qua il curatore è diventato una summa dello storico dell'arte del critico d'arte del conservatore quello che era il vecchio conservatore del museo anche di manager ok e poi deve seguire i cataloghi deve seguire la comunicazione tutto deve essere un factotum e l'aspetto più divertente del fare le mostre è allestire insieme agli artisti c'è poco da fare ve lo dico io ma ve lo potrà dire chiunque altro la parte più noiosa è l'inaugurazione ormai la cosa l'hai fatta poi di stringere le mani ciao salutare spiegare eccetera ci sta ma è un di più ormai quello che c'era da fare è stato fatto la comunicazione è partita la mostra è stata allestita basta poi subentra il gallerista deve vendere sostanzialmente vediamo se ho altre immagini vedete anche la varietà degli allestimenti non è che stesso modulo ogni saletta era impostata allo stesso modulo no ogni saletta ha una sua identità eccolo qua adesso vabbè non si vede per niente però qui c'era questo quadretto piccolissimo del Giuda che si impicca quello che forse non riuscite a vedere molto bene sono queste parti che erano delle delle pagine di un libro di Thomas De Quincey che era la storia di Giuda l'Iscariota con grande sofferenza perché sono un feticista del cartaceo ho strappato ho smembrato questo mio libro mettendole alcune pagine a parete sottolineando dei passaggi fondamentali in cui spiegavano come è morto Giuda perché si danno diverse versioni di questa morte e poi il resto del libro è stato lasciato a terra ma queste erano pagine non sostanziali quelle che mi importavano sono quelle che avevo affisso a parete altre vedute delle mostre non le vado ad analizzare nello specifico forse qua però mi devo soffermare un attimo in quest'opera perché è una mostra sulla pittura scusate era una mostra sulla pittura ma quest'opera non contemplava la pittura erano dei materiali di edilizia da cantiere con questo paracadute ed è un'opera di Giovanni Termini che è uno scultore però quando ci confrontavamo io e Giovanni diceva io ho fatto quest'opera per me è l'unica opera che io sono riuscito a fare in cui uno scultore fa una una pittura cioè l'idea della pittura così come potrebbe farla uno scultore non potrebbe essere altrimenti lo scultore che si mette a usare il pennello il colore non ha senso deve utilizzare i suoi strumenti per ottenere quel risultato che è l'idea della pittura e questo è il fondamentale molti si interrogano su che cos'è la pittura la pittura è un'attitudine la pittura è un'iconografia può essere tante cose la pittura allora era giusto corretto che in questa mostra ci fosse anche un'opera fatta da uno scultore così come nelle altre sale e qui lo si intravede c'erano opere anche fotografiche opere questi erano le carte sensibili foto sensibili di adesso ho un gap se mi sta vedendo nel streaming mi ucciderà non mi viene il nome mannaggia e non importa con le lumachine che attraversano la carta quindi la bava si imprime e diventa un tracciato però ecco anche lì la pittura che riesce a restituirci una pittoricità poi installazioni di Matteo Fatto vado un po' veloce adesso questa è un'unica installazione di Matteo Fatto dove anche qui troviamo un il tradizionale cavalletto da pittore rifatto scomposto quasi minimalista con il neon che fa un perimetro del quadro tutto qua è evanescente in assenza e qua invece per contrapasso abbiamo le opere d'arte all'interno della loro cassa e la cassa diventa la cornice stessa dell'opera queste parti di legno ovviamente sono il tappo di questa cassa qua così come questo è di quest'altra opera quindi qui c'era un ragionare sull'opera e quello che gli sta intorno come viene spedita fruita eccetera quindi è la messa in evidenza di tutta una serie di fattori che molto spesso vengono a perdersi gli addetti ai lavori li conoscono ma magari l'utente medio non si interroga sulla cassa ok come è fatta una cassa di un'opera d'arte magari non l'ha mai vista invece credo sia anche importante far vedere il retroscena di questo di questo lavoro anche qui poi c'era un'idea di fare invece mentre in altre sale avevo isolato la singola opera per valorizzarla qui ho voluto fare una quadreria del 600 quindi combinando opere fra di loro opere molto diverse perché si va dal figurativo all'astratto e poi c'era un'altra paretina la stessa quadreria ma solo con opere piccole quindi la grande quadreria e poi quella piccola e poi c'era questo grandissimo salone centrale dove avevo individuato sette artisti uno per ogni musa esponendo le loro opere e qui finisce diciamo la prima parte del mio discorso adesso qualche domanda prima di passare alla prossima cartella no fra un po' arrivo a spiegare un po' meglio la funzione del curatore allora vi dicevo del white cube lo spazio bianco che poi è anche il nome di una galleria famosissima c'è stato un periodo in cui tutti dovevano avere questi spazi espositivi musei gallerie private dei cubi dei rettangoli pareti bianchissime pavimenti più neutro possibile o solitamente grigi dove magari non c'erano finestre non c'era nessuna interferenza perché si arrivava tutta da una serie di gallerie vecchio stampo dove magari c'erano ancora le pareti di garza per appendere i quadri oppure c'erano come qui i listelli che fai scendere la catenella che poi è stata la prima cosa che io ho abolito quando sono arrivato al museo di Lissone avevano queste o erano di filo di bava o delle catenelle in metallo io ho detto non potete appendermi un tapis e un vedo su delle catenelle non si fa e loro mi guardavano ma perché non si fa ma è dieci anni che facciamo così in questo museo e io ho detto il fatto che è da dieci anni che lo fate forse magari non siete aggiornati su quello che sta succedendo fuori perché quella catenella lì inficia la visione dell'opera è un elemento di disturbo tu l'opera la devi far fruire nel miglior modo possibile quindi io adesso sto trapanando forando il museo a più non posso però insomma ci sta è anche il bello del lavorare mettersi c'è anche da dire quest'altra cosa adoro sporcarmi le mani io avrei anche del personale che mi dà una mano se io dico guarda quello lì a quell'altezza lì metti la vite piuttosto che il fischer eccetera me lo fanno ed è quello che succede in tutti i musei sostanzialmente però per pragmatismo e soprattutto perché a dirlo è il tempo che ci metto a farlo tanto vale che lo faccio e poi insomma usare un trapano poi mi metto anche a stuccare anche l'arte dello stucco non è così banale io vedo certi musei che hanno delle pareti con delle croste orrende che poi diventano gialle perché poi o vanno scartavetrate o vanno rimiancate le pareti vedi questi musei trasandati perché l'utente medio scusate se uso sempre questa parola ma lo spettatore guarda le opere mal addetto ai lavori quando entra in una mostra vede tutto lo spazio anzi molto spesso gli artisti già li conosce ah sì quella è Chiasera quello è Basquiat eccetera ah che bello spazio no li guarda da lontano le opere e poi si perde a guardare com'è la struttura che cosa si potrebbe fare già si inventa una mostra che potrebbe allestire lì e e poi l'addetto ai lavori si riconosce me l'hanno fatto notare molti miei molti miei amici ma già lo sapevo che quando giro per musei vedo un'opera d'arte magari una foto o un dipinto eccetera e le guardo di lato io guardo quanto come è fatto il telaio se la fotografia è stata è stata realizzata mettendo più strati di vetro di plexiglass mi interessa l'informazione tecnica però questa è veramente deformazione professionale se mi permettete vi faccio un altro vi dico un altro aneddoto sono stato ad Artissima che è una fiera che giri in modo gustoso ti piace ti dà sempre degli input di riflessione ed era con questo mio amico artista barra designer gli ho fatto Thanos devi venire assolutamente in questo stand perché hanno delle didascalie fantastiche lui mi guarda ma come tu guardi le didascalie e ho detto Thanos sono importanti che quelle perché tutti hanno queste o non ce l'hanno o scrive una matita che è una cosa atroce scrive in uno stand che ti costa un sacco di soldi e poi lo scrivi con una pessima grafia magari dai un'immagine positiva e avevano queste didascalie che erano montate su del multistrato di legno che erano fantastiche perché avevano gli angoli smussati lì in quel dettaglio lì capivi la ricerca che c'era stata non solo dalla galleria ma soprattutto dall'artista perché era un solo show e quindi se tu noti questo piccolo dettaglio capisci comunque che c'è una cura anche nel lavoro di per se stesso e quindi lo guardi con un altro occhio vieni invogliato mentre mi è successo adesso a Bologna bene o male anche lì tutte opere artistiche a parte giovanissimi che conoscevo e guardavo gli arredi la scrivania dell'amico gallerista piuttosto che la sedia se c'avevano la moquette nello stand o se l'avevano tolta sono cose che però fanno la differenza all'interno di uno stand lì c'è la mentalità mercantile io vengo lì per vendere mentre ci sono pochi illuminati che dicono sì io vado anche per vendere ma soprattutto per dare un'immagine di chi sono io infatti c'erano tre stand che si ricordavano proprio tu giravi chiedi che stand ti ricordi ed erano sempre i soliti tre perché comunque erano dei progetti che avevano fatto all'interno di stand va bene l'idea del white cube no? questo è standard poi con queste illuminazioni fredde come si chiamano adesso tipo a led no? non c'è più lo spot lo spot che ti creava l'ombra l'alone tremendo la luce calda poi tutto un po' nasce e lo conoscete benissimo dalla mostra il vuoto le vid di Yves Klein dove anzi l'avevo mi era portato un appunto che mi faceva piacere leggervi perché poi è di un libro che vi invito ad acquistare che è di Brian O'Doherty ed è Inside of a White Cube della John L. Levy è stato da poco tradotto in Italia ma in realtà è un vecchio libro americano che un po' ripercorre tutta l'idea del fare le mostre l'evoluzione dell'esposizione e nel caso di Klein scrive nel 57 a Parigi presso la galleria Colette Allendi aveva lasciato vuota una piccola sala per testimoniare la presenza della sensibilità pittorica allo stato di materia prima come scrisse lui stesso quella presenza della sensibilità pittorica vale a dire il contenuto della galleria vuota fu una delle intuizioni più fatali dell'arte del dopoguerra per il suo celebre gesto alla Iris Clart che sono le immagini che vediamo alle mie spalle Clendi pinse di blu la facciata che dava sulla strada servì cocktail blu ai visitatori tentò di illuminare l'obelisco di luxo in place della Concorde e pagò una guardia repubblicana in uniforme per presidiare l'ingresso della galleria all'interno l'artista aveva tolto tutti gli arredi e dipinto di bianco le pareti e una bacheca che non conteneva nessun oggetto la mostra si chiamava Le Vide ma il titolo completo che sviluppava l'idea dell'anno prima era ancora più eloquente l'isolamento della sensibilità allo stato di materia prima stabilizzato dalla sensibilità pittorica altro brano velate di sensibilità pittorica le pareti bianche della galleria si identificavano con lo spirito la bacheca imbiancata è un epigramma sul concetto stesso di mostra evoca la prospettiva dei contesti seriali nella galleria vuota la bacheca non contiene nulla i due meccanismi di esposizione la galleria e la bacheca sostituiscono l'arte mancante con se stessi inserire l'arte nella galleria o nelle bacheche significa metterla tra virgolette se l'arte è un artificio in un contesto artificiale l'arte nella galleria è un innolo un articolo da boutique secondo me è bellissimo questo passaggio perché effettivamente Clann non è che è andato a svuotare la galleria l'ha imbiancata effettivamente quindi l'ha ripulita gli ha permesso ai visitatori di vedere effettivamente per la prima volta la galleria così com'era cioè il contenitore era importantissimo e non solo il suo contenuto e da lì un po' parte tutta questa idea del white cube nessun oggetto deve interferire con l'opera d'arte questo però è andato sconvolgendosi negli ultimi luoghi perché a un certo punto non si sa come forse per noia forse perché era troppo facile è veramente facile restire una mostra in un cubo bianco la sfida è quando ti trovi spazi anomali qui vi faccio vedere ad esempio scusate forse queste immagini non è che le ho scaricate da internet quindi non sono di alta qualità però questa è la galleria zero di Milano di Paolo Zani è la terza sede perché la prima era a Piacenza poi la seconda era in zona Ventura dove lo spazio era piccolo forse ho anche delle foto più avanti questo è lo spazio che ho appena lasciato era in Via Tadino ed è un non so prima che cosa era forse un magazzino con le saracinesche ci sono anche qui si vedono delle pareti posticce di cartongesso sopra questa cosa orrenda in plexiglass tubature a viste termosifoli cioè il peggio del peggio eppure è affascinante perché comunque l'artista che doveva cimentarsi in questi spazi non sempre succede ma tiene presente di questi disturbi vedete quanto inquinamento c'è questa parte questa gli estintori che sono gli estintori sono la peggior cosa perché si trova dovunque nei musei d'arte io li vorrei sempre rimuovere però se poi mi arriva il pompiere o il poliziotto finiscono nei casini però rosso così ok che ti serve per individuarlo quando c'è un pericolo così come la segnaletica legata all'ascensore alle scale alle vie di fuga che poi molto spesso sono questi lightbox con l'omino verde su fondo verde no quindi tu hai questi colori questi pugni nell'occhio rosso verde danno fastidio vorrei sempre rimuoverli ma non si può però qui c'è talmente tanto superfluo che alla fine quasi sembra sparire forse ho anche no come mai questa immagine è finita qua che c'era ancora qualche immagine di Vclen vabbè qua c'era la parete vuota ah no ecco ad esempio questo è il progetto di Vclen sul vuoto e questa invece è la galleria come tutti tutti gli spettatori l'avevano sempre vista piena di oggetti di opere eccetera vedete la differenza cioè improvvisamente qualcuno immagino io si è accorto che effettivamente quella vetrina lì che l'ha sempre vista non si è mai soffermato a ragionarsi quanto grande era che rapporto aveva con lo spazio se era piccola grande insomma sì sono stato ingannato scusatemi dalla immagine della galleria zero la recupero dopo perché ho delle altre immagini arriviamo su quest'opera allora scusate un attimo devo fare così allora si tratta di William Anastasi è del 1967 in quegli anni Anastasi perché poi anche lì l'idea del curatore della figura curatoriale nasce a cavallo dei 60 e dei 70 ma ad accorgersi ne sono in contemporanea sia l'artista che il vecchio critico d'arte iniziano a capire che le cose stanno cambiando e si interagono effettivamente sullo spazio espositivo quindi l'opera esiste in un contesto William Anastasi doveva fare questa mostra in una galleria a New York fa un sopralluogo fotografa le pareti fotografa tutte le pareti della galleria e su ciascuno poi ha riportato la fotografia di quella parete anche qui per la prima volta gli addetti ai lavori ma soprattutto il pubblico medio si interroga sul luogo in cui in cui c'è l'arte ok e credo sia stata una delle mostre più importanti per la storia dell'arte questa di Anastasi poi l'artista ha fatto tutt'altro nel corso degli anni era un concettuale che adesso sembra quasi diventato un artista segni usa la fotografia per altre vellità però vediamo se magari avevo qui un appunto sempre su Anastasi no no scusate non c'entra nulla questa cosa era 1967 che cosa succede passa un bel po' di tempo siamo nel 2009 c'è un carissimo amico che è Giuseppe Pietroniro un artista di Roma fa la stessa cosa a distanza di 30 anni 40 quasi e deve fare le mostre fa il sopralluogo fotografa l'ambiente e vedete lo ripropone diciamo che c'è un piccolo scatto perché Anastasi gli interessava la parete Pietroniro l'ambiente quindi crea uno profondamente come se lo spazio dispositivo continuasse si raddoppiasse mentre qui era una sorta di di didascalia che Anastasi metteva sulla parete ve ne faccio vedere diversi in vari spazi sempre di Pietroniro e no adesso mi saltano fuori le immagini di Zani perché non le avevo nominate giustamente Pietroniro che qui siamo al macro di Roma e adesso abbiamo finalmente arriviamo a zero va bene allora ritorniamo su immagine in grande questo era lo spazio il secondo spazio quello di zona avventura che a suo modo era quell'idea di di cubo bianco che vi dicevo è vero sì che ci sono delle finestre era un piccolissimo spazio fatto ad L però il rettangolo principale e poi lo snodo in fondo erano comunque geometrici regolari ecco non c'erano pareti strane alla Zaha Hadid insomma pavimenti inclinati che vanno verso l'alto o soffitti che salgono e scendono improvvisamente era uno spazio regolare dove si potevano fare delle mostre piccole mostre corrette giuste perfette poi ricordate l'altro spazio quello di Via Tadino però c'è stato tra questi due spazi un mediano che era sempre in zona avventura uno spazio molto più grande sempre con questi paretoni soffitti altissimi eccetera che adesso è lo spazio di Mimmo Scognamiglio era uno spazio bellissimo che però Paolo non era riuscito a sfruttare perché aveva appena lasciato la piccola galleria che era vicino a Massimo De Carlo si era spostato di pochi metri fuori fuori strada in questo edificio che era ancora in costruzione era un grandissimo cantiere con operai che andavano uscivano e non c'erano le porte in questo spazio quindi chiunque poteva entrare fuori orario di galleria non c'era l'assistente non c'era il gallerista eccetera trovava le opere poteva anche prendersi rubassele quindi c'era stato un grandissimo disagio per Paolo e la cosa curiosa è che queste pareti sono bianche di mattoni ma questo è cemento armato quindi qui sopra è quasi impossibile mettere a pendere un'opera una foto una pittura quello che volete e quindi la noia del White Cube era avvivata da questo paretone imponente che sembra quasi un'opera di suo con queste macchie a vederlo così diresti sembra quasi uno Stingel quegli argentati di Stingel bellissimo ah ecco com'è che torna poi improvvisamente ecco altre visioni invece di questo spazio di Via Tadino non so penso un magazzino con porte di legno che si aprivano in piccole stanzine cavi elettrici a vista adesso si cerca di averli più basso possibile oppure scavati all'interno del pavimento le prese elettriche e adesso Paolo ha cambiato galleria è tornato al White Cube c'è sempre un termosifone un po' fastidioso però tutto il resto è molto più regolare allora perché vi ho parlato di Zani non solo perché ha cambiato un sacco di gallerie per vari motivi ma perché non c'è un'idea stabile di spazio espositivo fighetto tra virgolette cioè lui si potrebbe permettere qualsiasi spazio è una galleria delle più importanti in Italia fa le fiere all'estero ha ottimi artisti di livello internazionale allora come mai spazio piccolo poi un cantiere poi una sorta di magazzino adesso questo qua che sembra addirittura uno showroom più che una galleria d'arte cosa subentra a quel punto la noia la volontà di cambiare probabilmente tutto questo non c'è più l'idea standard di galleria potrebbe essere un garage questa è la CO2 di Torino gestita da due ragazzi molto bravi molto in gamba una è la Cornelia Mattiacci che è la figlia di Eliseo anche qui questa era una vecchia fabbrica una piccolissima fabbrica ma per quanto belle siano le colonne gli spazi con questa gettata di cemento a terra eccetera il lavandino questo lavandino che affiora qui tu entri in galleria è la prima cosa che vedi vedi le opere ma il colpo d'occhio dell'addetto ai lavori cade su questa cosa qua piace o non piace c'è poco da fare però ti soffermi e ti interroghi forse era il caso di toglierlo è il discorso è la riflessione che fa il quartore quella cosa lì io l'avrei tenuta o l'avrei tolta ovviamente ci sono problemi strutturali che non è che è così facile eliminare un lavello però anche le tende le tende nere che è una cosa che io detesto al secondo piano del museo di Lissone c'è questa saletta piccola saletta che è una sorta di project room di solito ci proiettavano dei video aveva una conformazione molto strana perché era stata costruita a posto rispetto al progetto dell'architetto perché il museo di Lissone con grandissimo anticipo sul maxi di Roma ha molte pareti curve ed è nasceva come pinacoteca allora uno dice 14 anni fa perché è stato inaugurato nel 2000 il museo di Lissone se tu sai che il museo è fatto per la pittura è una pinacoteca perché fai le pareti curve? se tu hai un quadro di due metri su una parete curva è un problema da appendere però la cosa per me è positiva perché io adesso ho uno spazio interessante da gestire la pittura la continuo a fare ma faccio molte altre tipologie di di mostre e dicevo abbiamo al secondo piano una parete convessa dove è stata ricavata una parete di cartongesso dritta che delimita questo piccolo spazio per la saletta dove proiettavano dei video e quindi avevamo questa L di cartongesso e poi la parete curva che finiva così ad angolo e c'era un monitor su un basamento al centro la prima cosa che ho fatto è costruire una parete di cartongesso dove proiettare direttamente l'immagine perché il monitor era bruttissimo poi su basamento era l'orrore per antonomasia e come si usava una volta ci sono sempre questi drappi neri che non fanno filtrare la luce però sono anche dei dissuasori perché se uno va in biennale allora vede il drappo nero dice eh vabbè allora adesso lì sarà pieno di gente perché sono salette piccole ci sono sempre solo due panche sempre stipate cosa sto in piedi a vedere un video di 10, 20, 30 minuti poi ti affacci così non vedi niente perché è buio no? e tu venendo dalla luce ti affacci non capisci vabbè dai ci torno dopo e e non entri quindi io ho abolito eh questi drappi neri che poi si sporcano velocissimamente rimangono dittate eccetera eh vengono pestati e e quindi non c'è più un filtro tra la mostra e questa saletta che diventa un'altra mostra di solito è dedicata ai giovanissimi e c'era anche la moquette nera ho tolto tutto eh la cosa buffa è che se ne sono accorti in pochi allora eh tiro su una parete ok per proiettare che è costata anche un bel po' di fatica eh tiro via il drappo e la moquette quindi era un'altra sala poi ridipinta eh completamente di nero perché era tutta eh piena di graffi di impronte eccetera eh perché poi il nero sulle pareti eh è tremendo basta poco ti appoggi così eh e diventa schifosa la gente veniva era stranitta no? ma non si era accorto della differenza che c'era eh è una cosa molto buffa che ok io ho fatto i lavori eh so perfettamente che cosa è successo però alcuni eh dicevano sì è cambiato qualcosa mi sembra meglio no? ma non aveva più memoria di come era prima forse perché era talmente brutta che l'aveva rimosso ricordo e e poi è molto più funzionale per gli allestimenti perché è tutto un museo che eh sembra un open space anche se su più livelli perché ci sono delle balconate che ti permettono di guardare gli spazi sotto eh cioè ci sono queste scale che praticamente girano all'interno e non intorno all'interno di tutto il museo quindi c'è una sorta di flusso continuo e mi piace che a volte i piani non sono un'unica mostra ma più mostre che comunicano fra di loro magari quella di un maestro vicino a un giovane allora eh torniamo sullo spazio della CO2 è uno spazio che va di moda negli ultimi tre o quattro anni molti forse è anche una questione economica non ci si può non si può permettere di investire subito se sei una una giovane galleria in uno spazio già eh bello definito magari in zona centrale si va un po' periferico rispetto al centro della città si prende un garage si prende un'ex fabbrica eh anche cantine io ho visto veramente delle cantine interrate che quando mi ci portano mi fa molto strano poi non so come facciano per le vie di fuga credo ci siano dei problemi in questo senso ed è sempre curioso andare a vedere questi spazi eh che cosa ci potrebbe essere no tu ti immagini chissà cosa poi arrivi in uno spazio curioso bellissimo magari piccolo però appunto una cantina che si potrebbe fare chissà cosa chissà cosa e ti trovi la mostra convenzionale roba appesa a parete qualche oggettino lì basta tutto uguale la mostra è sempre tutto uguale è per quello che poi l'ha detto ai lavori si interroga è curioso io prima sono entrato qui mi sono fermato a vedere quei reperti archeologici queste queste nicchie col vetro perché c'è guarrientro in fondo là poi fatto questo ho fatto il giro delle fotografie che erano appese qua però l'ho fatto dopo perché è deformazione professionale spero che non succeda a voi qui siamo invece a scusatemi a Miami Beach sono è la fiera ovviamente di Basilea fatta a Miami Beach nei container anche questo andava molto di moda da da 10 anni fa fino a qualche annetto fa poi improvvisamente stanno scomparendo anche i container quindi ci sono mode che vanno e vengono però anche il container bene o male voleva ricreare l'idea del parallelepipedo o neutro un po' più complicato perché bisognava pannellarlo eventualmente all'interno arriviamo adesso alla parte che più mi interessava a farvi vedere anche perché qui emerge una figura del curatore ma anche dell'organizzatore e dello scopritore siamo nelle Dolomiti nella zona Belluno Gianluca Dinka Levis che vi consiglio di segnarvelo o forse lo conoscete già è l'inventore di Dolomiti Contemporanee che è un format lui ogni anno va squinzaglia proprio i suoi collaboratori va in cerca all'interno delle Dolomiti perché lui vive lì vuole valorizzare le Dolomiti perché comunque è patrimonio dell'UNESCO per fare questo giustamente lo associa alla cultura quindi alle arti visive poi si fanno anche altre attività di didattica di spettacoli eccetera ma il nucleo centrale è le arti visive che è molto importante di solito lo stato italiano quando ci sono da fare di tagli la prima cosa che taglia è i fondi per la cultura ovviamente il teatro non è risente la musica non è risente ma le arti visive collassano perché sono quelle veramente che vengono più tartassate non a caso i musicisti hanno i rimborsi di spesa al teatro si pagano gli attori gli artisti in Italia non c'è una voce ok nella burocrazia rimborso spese ma se ce l'ha il musicista perché non ce l'ha l'artista non è da dieci anni che chiedo come mai questa cosa e nessuno mi dà una risposta non c'è la voce nel bilancio non viene contemplato e quindi non si può fare come non si può fare sono quelle risposte odiose che ti danno qui da noi l'artista la benzina l'autostrada i pranzi il vitto l'alloggio ha delle spese perché lui è sempre quello che ci rimette vabbè allora Gianluca d'Incalevis ogni anno individua dei siti magari sono pseudo archeologia industriale dove lui chiede ai proprietari magari sono edifici sfitti da dieci venti trent'anni chiede di poterli avere in gestione per un anno ok ovviamente chiede di non pagare l'affitto lui convince il proprietario visto che è sfitto da così tanto tempo facciamo dei progetti espositivi delle iniziative facciamo conoscere questo spazio ok e quindi magari creando visibilità un acquirente tu lo trovi ok la prima volta che lui fece Dolomiti contemporaneo contemporaneo trovò questo sito che si chiamava Sasmus un nome bellissimo ed erano diversi padiglioni erano tre grandi padiglioni più una foristeria e poi altri capannoni che però non vennero utilizzati questo che vedete era il più grande forse ho qualche ecco esatto vedete internamente spettacolare questa cosa qua era un ex stabilimento chimico svuotato completamente erano stati ripuliti gli ambienti e qui il giorno dell'inaugurazione questo grande padiglione decisero di fare una proiezione di video benissimo perfetto se l'avessi avuto in gestione io probabilmente avrei sperimentato un po' di più per mettere in evidenza proprio l'ambiente qui in realtà non c'è un dialogo tra l'opera e il contenitore sono due cose che vivono in parallelo ma che non dialogano dal mio punto di vista quest'altro padiglione molto bello sembrava di essere un po' in una piccola biennale di Venezia tu giravi questi padiglioni ed erano uno diverso dall'altro quest'altro però forse non ho l'immagine interna era molto più semplice perché erano tante piccole salette bianche e quindi potevi fare micro personali volendo comunque delle mostre facili da allestire perché allestire una cosa qui a meno che non facevi installazioni perché anche qui è tutta muratura tutto cemento armato quindi difficile da forare lo si può fare ma bisogna impegnarsi questo era molto più facile ed era lo spazio espositivo che mi era stato assegnato io dissi va bene è bello era molto più bello da fuori che dall'interno però ho detto sì dai non è un problema lo prendo io ed era quello un po' più defilato si arrivava ed era l'ultimo che vedevi non dico che era il padiglione più sfigato perché arrivava per ultimo però ho detto vabbè non voglio fare problemi il padiglione centrale era questo che era veramente quello impossibile da gestire non aveva pareti perché vedete questi ampi finestroni questa passerella splendida tu accedevi da dietro da qua salivi qua c'era un altro ripiano e poi passavi attraverso questa passerella e arrivavi in uno slargo poi con questi piloni tutti disbieghi molto curioso non so come mai avessero forse c'erano grandi cisterne qua da dover gestire sospese da dover versare eccetera però complicatissimo un grande spazio vuoto sotto al pian terreno da dover riempire però non avendo pareti da utilizzare poi un altro un altro angolino da quest'altra parte un deambulacro qui che era uno spazio mediano e poi qua cosa ci metti cosa è successo Gianluca che è bravissimo aveva in mente di fare una mostra sulla pittura adesso prendo io il padiglione centrale poi si è reso conto che effettivamente qua non potevi appendere nulla ha detto Alberto prendilo tu e io ha rifatto completamente il progetto perché non potevo più fare quello che avevo pensato per l'altro e qui mi sono come stato a cannetto sull'olio ho pensato tante mostre in un'unica mostra quindi qui era una piccolissima sezione era tutto legato al sasso l'evoluzione del sasso si andava dal da questa pietra dolomitica che è una pietra volgare sarà anche patrimonio dell'unesco ma è una roccia friabile tutta sporca sembra una scoria da quella passava il san pietrino poi magari c'era l'evoluzione in ceramica fatta da un artista si arrivava al blocchetto di post-it di Fry e poi al pose cenere di Munari il cubo erano tutte forme quadrate sembrava un'evoluzione della specie mi ero molto divertito a creare questa cosa però va bene non voglio spiegarvi che mostra avevo fatto in quel contesto anche se era importante relazionarsi a questo spazio difficilissimo e soprattutto dando un tema che apparteneva a chiamiamoli indigeni del luogo perché comunque tu ragionavi appunto sulle dolomiti sul loro paesaggio un paesaggio a cui loro ci tengono però è un paesaggio che conoscono a memoria quindi tu attraverso l'arte gli davi un'interpretazione diversa questo è l'anno dopo il secondo anno di dolomiti contemporanei in cui lui aveva era riuscito a farsi dare questo spazio si chiamava credo visibilia dovevano fare cose o occhiali credo o lenti connesse all'ottica e erano tanti piccoli stabili insomma si apriva la saracinesca e tu avevi tanti quadrati all'interno quindi qua si torna nell'idea del white cube molto semplice da allestire forse era stato lo spazio meno interessante di tutto il ciclo di dolomiti contemporane però l'aspetto interessante era andare a trovare un po' come state facendo voi con questa iniziativa spazi sparpagliati all'interno della provincia per farli conoscere al pubblico qui era Taibon poi hanno tutti questi nomi che a me piacciono Sasmus Taibon e irraggiungibile io non ho la patente io non guido insieme a un artista avevamo deciso di prendere i mezzi pubblici allora sembrava veramente un odissea già solo arrivare a Belluno è complicato con i treni perché arrivi fino a Padova poi ogni tanto c'è un trenino regionale che ti porta a Belluno che ci mette una vita arrivato a Belluno non passava l'autobus e poi l'abbiamo siamo riusciti a prenderlo dopo ore siamo dovuti fermare in un certo punto perché l'autobus proseguiva da tutt'altra parte e noi invece dovevamo andare di là ma a piedi non ci si arrivava allora abbiamo chiamato degli amici che erano a Taibon che ci venissero a recuperare due ore dopo noi per la strada ad aspettare che ci venissero a prendere vabbè ci sta questo calvario se tu ami l'arte dici è comunque un'esperienza un viaggio chissà cosa può succedere è anche non solo fare la mostra è proprio tutto quanto andare a fare i sopralluoghi prima vederli cercare di capire se quello come utilizzare quasi plagiare lo spazio che ti danno chi invitare eccetera e quindi lì quando parlo sempre per me stesso ovviamente ma quando mi invitano a progettare una mostra per uno spazio non penso un'unica mostra ne penso tre e poi dico beh forse effettivamente questa è quella che funziona di più forse questa è quella che ha più senso per quello spazio poi magari gli altri progetti li metto in cassetto e le tornano fuori per altre occasioni rimaneggiate eccetera e qui vedete sono di capannone industriali niente di che all'interno molto semplici qua se non altro c'erano ampie pareti da poter sfruttare è stato uno spazio mediano dove abbiamo ci siamo passati un po' tutti insomma alcuni hanno scelto di fare un unico artista altri più artisti nel mio caso e non ho qui le immagini mi scuso ero convinto di averle inserite avevo chiamato una decina di artisti con piccole opere quasi tutto a parete scusate a pavimento a parte un unico artista che l'avevo erano piccoli collage messi in fila su questa parete poi al resto erano tutti piccoli oggetti disseminati e la gente ci doveva ruotare intorno ma stare attenta anche a non pestarli avevamo vagliato questo rischio di impresa così come si dice che qualcuno ci urti lo calpesti lo danneggi gli artisti erano non d'accordo e quello che succede succede infatti c'era poi un pallet con degli scatoloni vuoti e c'era un motore che azionava questo pallet un po' alla volta gradualmente lo alzava lo inclinava sempre di più finché questi scatoloni cadevano infatti siamo stati per ora in attesa di questo evento stavamo lì quando sono caduti sono caduti in un modo che non ci aspettavamo né io né l'artista ma neanche gli altri che partecipavano al progetto invece di cadere da questa parte non si capì come esattamente ci fu un rimbalzo di alcuni scatoloni andarono a a cozzare contro le sculture di un altro no? caddero così io ero lì avevo assistito alla cosa tutti tutti preoccupati odio 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 andiamo a sistemare le sculture io ho detto no lasciamoli così questo è l'evento dell'inaugurazione è successo non era previsto bene o male è un danno è un errore di valutazione che io ho commesso però cosa faccio adesso? vado lì il sistema di fronte al pubblico ormai è andato insomma il giorno dopo ho ripristinato tutto così come doveva essere la mostra però non me la sentivo di nascondere gli errori io preferisco veramente mettere in evidenza le cose poi la preoccupazione lo scandalo tutti gli altri curatori gli altri autocuratori degli altri padiglioni Alberto ma ti sei accorto sì certo mi sono accorto non sono stupido però non vedevo questa ansia questa fobia insomma quest'altro spazio che è diventato uno spazio museale ed è a Casso Casso è dove è successo quel disastro del Vajont quella strage che noi tutti ci ricordiamo questo è un edificio un'ex scuola immaginate che è un paesino adesso non so forse 30 persone forse anche meno ci vivono è un paese fantasma questa era una scuola perché ovviamente dopo il disastro se ne sono andati tutti sono rimasti giusto i più anziani con qualche famiglia che ha qualche ragazzo adesso che è un adolescente questa è un'ex scuola infatti nella facciata vedete che è martoriata dalle sasse dalla frana che c'è stata questo il comune ha deciso di restaurare questo spazio non per essere museo l'avevano restaurato come un po' per preservare memoria di quell'evento doveva essere un contenitore per qualcosa poi hanno capito per cosa vedete c'è tutta una parte rifatta con queste gradinate questa grande balconata che tu ti affacci e vedi dove è successa la tragedia spazio curioso molto affascinante ed è diventato il museo di Casso gestito da Gianluca e adesso non ho lo spazio che invece di cui si è appropriato quest'anno che è un vecchio sito industriale progettato da due architetti uno dei quali è Carlo Scarpa allora perché mi interessava farvi vedere questi spazi perché una figura anomala come Gianluca Dinkalevis che lui arriva tardi all'arte lui ha studiato architettura infatti è per questo che si incuriosisce ai siti archeologici da da rivitalizzare arriva tardi all'arte arriva anche con piglio imprenditoriale è un'evoluzione del curatore perché lui procacciava questi stabili enormi una mostra la riservava per sé come curatore ma gli altri spazi li affibbiava a dei colleghi quindi organizzatore che certo fa le cose per sé le fa per le dolomiti il paesaggio in cui lui è cresciuto vive che gli piace però permette anche di dare visibilità agli altri agli artisti non non dà mai paletti questo lo fai questo non lo fai lui dice lo spazio lo gestisci tu decidi tu il tema e ti prendi le tue responsabilità quindi è molto nobile da parte sua mettere in piedi ogni anno questa grande macchina organizzativa perché poi deve recuperare sponso deve recuperare personale che tenga aperto gli spazi guide poi gli incontri che lui organizza riesce veramente a calamitare un sacco di persone è riuscito a far venire fino in questi posti veramente persi nei boschi di Belluno gente come Vittorio Sgarbi piuttosto che Filippo D'Averio che poi con questi spazi non c'entrano nulla però già che ci siamo oltre a quelli più addentro nell'arte contemporanea facciamo venire anche queste altre figure insomma che poi sono sempre uno specchietto per le allodole perché comunque se tu giornalista dici a caso è venuto Francesco Bonami piuttosto che Massimiliano Gioni non fa notizia è venuto Filippo D'Averio è venuto Filippo D'Averio fa notizia e quindi tu è un po' strumentalizzare insomma a vicenda funziona così c'è poco da sorprendersi e Gianluca quindi è questa evoluzione proprio di questi anni perché io non conosco un altro che fa questa cosa qua sarà che lui non dorme mai non mangia mai cioè io lo frequento da 4 anni con lui ho fatto diverse mostre ogni volta che si allestiva poi si inaugurava eravamo tutti proprio in cerchio artisti curatori eccetera che aspettavamo quando mangia Gianluca beve ma non mangia ogni tanto lo vedevi magari una fetta di prosciutto ma come fa a nutrirsi poi c'è sto fisico atletico fa le arrampicate eccetera però è è un mistero è veramente sembra un UFO sceso sulle Dolomiti e secondo me questo potrebbe essere un inizio di di nuove pratiche legate alla curatela però qui si vede se uno ha la passione se uno ci crede ovviamente deve essere bravissimo a relazionarti a dialogare con con il territorio perché anche anche a Belluno ognuna realtà come casso che è un po' come è successo a Gibellina in Sicilia quando c'è stato il terremoto ha distrutto tutta la città le persone di quei luoghi ricordano la tragedia e basta non riescono ad andare oltre fanno sempre il decennale il ventennale il trentennale del ricordo della tragedia no bene l'avete già fatto ok per una volta dimenticatelo facciamo un'altra iniziativa facciamo una cosa che valorizzi il territorio invece che ricordare una cosa funebre ed è quello che lui sta facendo però andare a bussare dalle porte degli imprenditori chiamarli insistere senti mi dai una mano che poi si tratta di o recuperare effettivamente fondi quindi contante ma altre volte possono essere sponsorizzazioni tecniche perché poi la foresteria va arredata i letti per gli artisti la parte del bar il personale che gestisce il bar poi anche una libreria ogni anno invece di fossilizzarsi ho trovato questo spazio qua adesso lo tengo cinque anni ok ormai l'ho avviato so come funziona vado tranquillo vado liscio in realtà no per lui qui è sempre una nuova sfida a volte appunto perché rilancia gli spazi quindi poi si riattiva l'interesse e i proprietari riescono a vendere questi questi stabili e quindi fa economia fa economia in quel territorio lì tutti dicono ma con l'arte non si campa l'arte non serve l'arte che cosa può portare agli altri non fa le grandi differenze però vedo anche che al museo di Lissone che abbiamo un'attività espositiva che è una follia assoluta perché in un anno riesco a fare piccoli o grandi che siano 40 progetti espositivi sono 4 livelli sono 12.000 metri quadri non è un museo enorme ma non è neanche piccolo è una via di mezzo che io riesco a gestire molto bene ma fare 40 progetti espositivi in un anno significa che ogni due mesi tutto il museo viene rifatto ok con tempi a volte assurdi tipo l'anno scorso mi davo una sola settimana per disallestire tutto e rialestire tutto immaginate con 4 andavo dal minimo 4 mostre a un massimo di 8 in contemporanea il che vuol dire gestire tutti gli artisti collezionisti galleristi che ti prestano le opere e i trasportatori e poi comunque gli amici critici che vogliono vedere gli allestimenti per parlare con il curatore e gestire comunque l'assessorato alla cultura perché poi bisogna comunque interloquire per l'apparato burocratico tecnico i rimborsi gli alloggi è una io mi trovo di solito a gestire contemporaneamente una cosa come minimo 100 200 persone non so come faccio se me lo chiedessi probabilmente e mi darei una risposta non lo farei più nella mia incoscienza continuo a farlo ma perché mi piace mi diverte poi quando ci sono i problemi fortunatamente ho imparato a non entrare in stress perché se entri in stress in paranoia è la fine mi nervosisco ho questi scoppi di rabbia furiosi però poi ritorno su me stesso e risolvo i problemi bisogna anche essere molto creativi ed è la pratica curatoriale fondamentale tu non puoi prevedere qualsiasi cosa c'è sempre l'imprevisto il camion che non arriva le opere ferme alla dogana e quell'opera che tu di 200 kg di 2 tonnellate che dovevi mettere a parete su una parete che non li regge allora come fai è bellissimo questa cosa qua ovviamente devi avere anche delle persone che ti danno un po' una mano magari ti danno dei suggerimenti e poi nei suggerimenti tu individui il risultato corretto devo fare una pausa? no vado ancora perfetto scusate ok allora perché poi ho il problema io apro molte parentesi ma mi dimentico di chiuderle e quindi faccio dei discorsi a serpentina benché io mi prepari ho tutte queste immagini so cosa voglio dire poi in realtà strada facendo mi vengono in mente altre cose allora aprirei quest'ennesima parentesi vi cito ancora due prassi di Brian Odoerty lui dice scrive in epoca moderna la prima occasione in cui un artista radicale creò uno spazio e vi espose i propri dipinti fu mi pare il padiglione del realismo personale che Courbet allestì all'esterno dell'esposizione del 1855 come erano esposti i quadri in che modo Courbet ne concepì l'ordine di successione i rapporti reciproci gli spazi che li separavano probabilmente non fece nulla di straordinario eppure era la prima volta che un artista moderno che poi risultò il primo artista moderno si ritrovò a ideare il contesto della sua opera e di conseguenza a pronunciarsi sul valore di quest'ultimo conoscete benissimo Courbet si fa il proprio padiglione e mette in mostra le proprie opere forse da qui nasce quella figura curatoriale di inventarsi lo spazio ok dove collocare l'arte dopodiché Brian Dorthy cita questo questo aneddoto che a me piace molto quando in occasione della grande retrospettiva di Monet tenutasi al museo of modern art nel 1960 William Seitz fece togliere le cornici all'inizio fece togliere le cornici all'inizio le tele messe a nudo sembravano delle riproduzioni finché non ci si rese conto di quanto dominassero la parete benché non privo di stravaganza l'allestimento interpretava correttamente il rapporto tra i dipinti e la parete e con raro atto di audacia curatoriale ne seguiva le implicazioni Seitz collocò inoltre alcuni a filo nella parete siamo nel 60 appunto sono le prime sperimentazioni da parte di quelli che erano i critici d'arte interrogarsi su come collocare le opere perché lo verifico anch'io con i miei studenti si realizza un'opera nel proprio studio si pensa che quell'opera possa funzionare dovunque no assolutamente appena la porti in laboratorio in accademia o la porti in una galleria cambia molto se l'ambiente è grande e la tua scultura è piccola rischia di scomparire e poi magari non si fa attenzione al basamento a come collocare gli studenti tendono a avere l'idea la realizzano nelle loro possibilità infatti io li riprendo molto perché dico l'opera formalmente deve essere perfetta o comunque perfettibile non è che dovete spendere tantissimo soldi però cercare che non ci siano errori cioè nel momento in cui tu vedi un oggetto fatto male no non è che ti metti lì a ragionare sul concetto che ha avuto l'artista eccetera vedi l'oggetto fatto male dici ah che peccato poteva essere diverso quindi ti distrai se tu hai la forma corretta ecco a quel punto arriva l'informazione di poetica però se tu fai una scultura grande così e poi in accademia me la metti sul tavolo dici bene e adesso io gli chiedo sempre quando mi portate i lavori me li allestite perché anche i ragazzi quelli i pittori arrivano professore guardi questo mio quadro io non te lo prendo in mano me lo devi appendere a parete tanto per capire sono stupidaggini già le sapete però è bene dirsele cioè se appende un quadro così dai una percezione diversa così allora l'importante è quello che c'è dipinto o come lo vai a collocare cioè tu ragioni sull'iconografia e sulla narrazione lavori sul metalinguaggio quindi puoi dipingere qualsiasi soggetto tanto a te non ti frega se è un cane piuttosto che una casa l'importante è come dipinto ma altre volte può essere proprio un ragionare sulle altezze sull'ambiente magari adesso qua intravedo una riga bianca e qui è bianco e qua è panna un artista potrebbe decidere di appendere i quadri a questo livello perché qua c'è la parte bianca quindi neutra se li appendesse qua è diverso sono piccole sciocchezzuole che si imparano strada facendo insomma allenando l'occhio e allenandosi ad allestire le mostre adesso però starei quasi entrando nel discorso di oggi pomeriggio cioè svelare i trucchi come funziona questo sistema in realtà vorrei farvi vedere un passant questi allestimenti sempre di inizio novecento metano prima parte del novecento ad esempio qua è Marcel Duchamp con questi sacchi appesi a parete altre volte questa è famosissima aveva questo filo quasi questo telo di ragno che era stato disseminato in giro per lo spazio e qui è vero sì che erano un po' concepiti come i primi environment cioè l'opera che invade prende possesso dello spazio un po' come era successo col Marzbau di Schwitter che poi è stato Marzbau è un'opera interessantissima perché ne fecero ne fece tre versioni e tutte e tre distrutte cioè quanto impegno Schwitter nella propria abitazione creare un po' alla volta questo ambiente che poi lo soffocava non riusciva più a viversi e ogni volta bombardato e e qui siamo ritornati allo spazio neutro però Duchamp che fece questo environment in realtà era uno dei primi artisti dopo appunto Courbet che in realtà ragionava anche sulla relazione fra le opere questo filo che impedisce allo spettatore di girare tranquillamente però vedete collega in realtà fra di loro le opere degli amici surrealisti sostanzialmente e qui finiva l'altra cartella allora permettetemi di guardare la terza cartella che cosa conteneva se no farei una brevissima pausa prima di arrivare agli allestimenti ah 12 e mezzo ah l'una ok ma neanche se devo andare in bagno velocissimamente devo fare una performance di prova di resistenza due minuti due minuti scars perfetto però mi conviene togliere il microfono perché so di esperienze passate di colleghi grazie